...che va velocissima... ...che sembra non fermarsi mai... ...e parla, parla, parla... ...e parla, parla... ...e ci dice cose che a volte non ci fanno piacere... ...mentre osserviamo questa voce... ...cambiamo la sua qualità... ...nei momenti in cui diciamo... ...ok, oggi voglio osservare la mia mente... ...stiamo cambiando il corso della nostra vita... ...avete mai sentito parlare di risveglio... ...a parte la mattina quando vi svegliate... ...c'è qualcuno che dice che... ...noi dormiamo sempre... ...c'è un sonno orizzontale... ...e c'è un sonno verticale... ...il sonno verticale... ...nel sonno verticale... ...possiamo fare tutto quello che facciamo normalmente... ...ci alziamo, andiamo al lavoro... ...facciamo colazione... ...parliamo con gli altri... ...ri torniamo a casa... ...guardiamo la televisione... ...e poi ci rimettiamo... ...orizzontali... ...ma in realtà cambia poco... ...la posizione... ...la posizione... ...e... ...se io vi chiedessi... ...ricordate tutto quello che avete fatto... ...nelle ultime ventiquattro ore... ...oppure... ...mentri parlavate con qualcuno oggi... ...come l'avete ascoltato... ...c'eravate... ...eravate per sé... ...oppure pensavate... ...alle bollette da pagare... ...oppure pensavate... ...alle bollette da pagare... ...oppure pensavate... ...magari... ...quello che... ...arreste fatto dopo un'ora... ...o dopo mezz'ora... ...può essere un esercizio interessante... ...può essere un esercizio interessante... ...ascoltare... ...qualcuno... ...con l'intenzione di ascoltarlo... ...to start to listen to somebody else... ...with the clear intention... ...of actually listening... ...that's the exact line... ...pensando soltanto... ...che sto ascoltando quella persona... ...thinking... ...only... ...that I'm listening to this person... ...avete notato... ...quando facciamo qualcosa... ...in uno stato di concentrazione... ...have you noticed... ...that... ...when you do something... ...in a state of high concentration... ...come... ...ci riesce tutto più facile... ...how everything becomes... ...extremely easy... ...e più efficace... ...e più efficiente... ...more effective... ...e... ...e come tutto fluisce... ...and everything flows... ...lo stato di flusso... ...the state of flow... ...che noi viviamo... ...quando per esempio... ...agiamo con i nostri talenti... ...con le cose che sappiamo fare meglio... ...and the state of flow that we live... ...when we do things that... ...are related to our own talents... ...to the things that we like to do... ...that we enjoy doing... ...e... ...in quei momenti... ...se sembra come se ci fosse... ...un effetto magico... ...nella nostra vita... ...in those moments of flow... ...is there... ...like a magic effect... ...in our life... ...avete mai vissuto... ...un momento del genere? ... ...did you ever leave... ...an magical moment... ...like that... ...in which you were in flow? ...chi più chi meno? ...probably... ...everybody... ...some people more... ...some less... ...eh... ...possiamo conquistare... ...quell'effetto... ...in ogni momento... ...della nostra vita... ...we can reach... ...the same state... ...and the same effect... ...on our... ...of our actions... ...in any given... ...moment time... ...of our life... ...semplicemente... ...ricordandoci... ...di noi... ...un po' di più... ...simply... ...remembering... ...of our self... ...a little bit more... ...simply... ...remembering... ...of our self... ...al di là... ...del meccanismi... ...and... ...excluding... ...meccanismi... ...habits... ...ok... ...reazioni... ...automatic... ...reactions... ...tutto il nostro... ...apparato emotivo... ...è reattivo... ...o... ...el nostro... ...emotional... ...system... ...is automaticamente... ...reactive... ...noi reagiamo... ...se qualcuno... ...ci dice... ...qualcosa... ...che non ci sta bene... ...we automatically... ...react... ...if somebody... ...is telling us... ...something... ...that... ...we don't really... ...like... ...to hear... ...se mi dicono... ...se è uno scemo... ...io reagisco... ...if they tell me... ...you're stupid... ...obbligamente... ...reagisco... ...o fisicamente... ...o emotivamente... ...o tutte e due... ...and I can react... ...either physically... ...we're Italian... ...so... ...or emotionally... ...or both... ...so... ...posso reagire... ...con la genosia... ...we can react... ...with jealousy... ...o con l'ansia... ...or with anxiety... ...e... ...e... ...nei casi più... ...diciamo... ...profondi... ...con la depressione... ...and in some... ...profondi cases... ...with depression... ...sappiate... ...che in quei momenti... ...non siamo noi... ...che guidiamo... ...la nostra vita... ...e... ...and thoughts... ...tutto questo richiede... ...allenamento... ...and all this requires training... ...allenamento a osservarci... ...training in observing ourselves... ...la parola chiave è questa... ...osservazione... ...this is the key word... ...observation... ...self-observation... ...perché io noto che... ...molte persone hanno... ...buone intenzioni... ...because I noticed... ...that some people... ...they have very good intentions... ...ok... ...lo farò, lo farò... ...sì... ...mi osserverò... ...I'll... ...I'll put my mind... ...to observe myself... ...yes, I'll do it... ...ma dopo un giorno... ...after one day... ... ... ...